che piacere sentirti sia pure così da da lontano e il gusto è mio sì senti mi verrebbe subito voglia di dirti un sacco di cose perché di chiederti un sacco di cose perché questo libro che sta già andando molto bene in italia tempi duri è il titolo è il titolo italiano tempi duri è il titolo italiano è esattamente il mismo titolo che in spagnolo è di una carta di una santa española che scrive in una carta a una amiga questi sono tempi reti e credo che gli tempi di spagnolo hanno sempre reti e credo che encaja molto bene per questa epoca che apparese nella novella no sì assolutamente ecco dicevo vorrei subito partire con mille domande che si possono fare sia dal punto di vista delle cose raccontate che dal punto di vista formale cioè di come le raccontate di come è montato il libro però dico in due parole molto sinteticamente per chi invece non avesse non avesse non avesse letto ancora e il libro una brevissima descrizione diciamo non è uno dei tuoi libri ballata diciamo come la giuglia lo scrive a chino ma è uno dei tuoi libri concerto il tema il tema se uno dovesse indicare un tema centrale forzatamente dovrebbe dire che il tema è la disumanità del potere la disumanità del potere sia dei grandi poteri che dei poteri individuali centrato sulla sulla storia del guatemala che diventa davvero un punto centrale per capire gli anni sono dalla fine degli anni quaranta all'inizio degli anni cinquanta gli eventi centrali e il guatemala la storia del guatemala la storia del tentativo di far diventare il guatemala un paese democratico e avanzato e del fallimento di questo tentativo sia veramente centrale anche dal punto di vista politico e umano dello sviluppo del dell'america c'è una prima parte un prima di tutto il libro in cui la unite fruits company è il di il centro la company che compra sostanzialmente guatemala nel centro del del che è una parte più come dire immaginata romanzata ma anche saggistica diciamo una parte centrale dove si sviluppa il romanzo è una parte finale meravigliosa addirittura dove l'autore incontra di personaggi o anzi il un personaggio centrale e del 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 romanzo nella parte centrale è un intreccio tra finzione elementi di finzione e elementi di realtà straordinario con un ritmo eccezionale che non lascia che non lascia il lettore un ritmo di dell'intreccio fra realtà e finzione non lascia il lettore per 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 un secondo con mille imprecisioni questo è il è il libro ecco una domanda generale per iniziare perché hai scelto il il lettore alla fine lo capisce molto bene ma io te lo chiedo come perché hai scelto questo momento della storia di guatemala e questo momento della sua storia perché io conoscia la storia del trujillo il dictador dominicano però curiosamente non non sapia che abbia stato involucrato tan direttamente prima in il golpe militare contro il presidente Jacobo Arbenz e poi contro il generale che ha dato il golpe contro Jacobo Arbenz tanto che hai rumori di di vita contro la storia di guatemalte che ho casano di potenzione di guatemalte che stanglie di guatemalte spesa di guatemalte que era una domanda di guatemalte e guatemalte che ha dato che il caraino di guatemalte che lui ha dato che abbia il pudo intervenire in l'assassinato di Castillo Armas quando io leì queste informazioni mi quedo molto sorprendido e poi ho scopri che il Departamento di Stato di Stati Uniti aveva posto in circulazione molti materiali di esa epoca in cui riconoscere aver partecipato di una maniera molto activa con hombres, con armas e con dinero a la caida di Jacobo Armas io ricordi che io ero studiante universitario in la epoca di Arbenz in Lima e che a noi interessò molto il caso di questo paese centroamericano che trattava mediante leggi leggi democrattiche approbate per un congresso elegito il presidente aveva sido elegito anche in una elezione impecabile di fare un'esercizio di un'esercizio che ci sono molto importanti per l'America l'esercizio la reforma agraria soprattutto la reforma agraria principalmente però non solo la reforma agraria sino realmente la incorporazione de los campesinos a la vita productiva del país e desde l'esercizio il golpe d'estado contra Jacobo Arbenz apoyato molto direttamente per la CIA nos desconcertò e io credo che aveva un'esercizio trattato per l'America Latina le dio un'esercizio 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 y yo creo que sirvió también para radicalizar mucho a la propia Cuba que hasta entonces lo que había pedido Fidel Castro era mucho de lo que estaba haciendo Jacobo Arbenz en Guatemala o de lo que trataba de hacer entonces yo me encontré con todo este material y me sentí muy tentado de escribir una novela porque creo que lo ocurrido en Guatemala es la primera vez que se aplica las fake news no existía la palabra todavía en ese momento de una manera muy eficaz políticamente a través de la CIA bueno es un sobrino de Freud nada menos de Sigmund Freud el que trabajaba para la United Fruit no que trabajaba sí para la United Fruit y que planea esta operación maravillosamente bien hecha pero con consecuencias terribles para América Latina este señor explica en una sesión del directorio de la United Fruit que nadie sabe en Estados Unidos los problemas de Guatemala ni siquiera dónde está Guatemala y que hay que educar al pueblo norteamericano sobre este tema y entonces él dice nosotros tenemos que recurrir no a la prensa conservadora que va a estar con nosotros de todas maneras sino a la prensa liberal progresista al Washington Post al New York Times a Time Magazine al New Yorker y vamos a llevar periodistas de estos periódicos liberales para que denuncien que la Unión Soviética está penetrando en Guatemala peligrosamente creando allí una cierta confusión ya que Guatemala está a medio camino entre Estados Unidos y el Canal de Panamá donde Estados Unidos tenía una importante guarnición militar y yo creo que esta operación resulta de una gran eficacia porque los periodistas norteamericanos de estos periódicos liberales que no sabían nada de Guatemala ni del Centroamérica ni de América Latina pues fueron se pasaron unos días allí la United Fruit los hizo entrevistar a las personas claves y salieron de allí convencidos de que la Unión soviética estaba apoderándose de Guatemala esto visto desde la perspectiva actual es una pura estupidez pero una estupidez porque no sólo Guatemala no era un territorio pro soviético sino que Arbenz Jacobo Arbenz el presidente era un gran admirador de Estados Unidos tenía el sueño de convertir a Guatemala en un pequeño Estados Unidos en el Caribe que fuera una democracia perfecta y él todas las medidas que había tomado estaban orientadas en esta dirección o sea que fue una injusticia terrible terrible la cometida con él por una potencia como Estados Unidos que a través de la CIA pues apoya un golpe de Estado y convierte digamos a Guatemala hasta hace relativamente pocos años en un territorio bárbaro violento en que las guerrillas y el ejército se pelean en una de una manera terrible con miles de muertos bueno nada y dan a todo América Latina un gran prestigio a la guerrilla según la fórmula cubana los resultados son verdaderamente catastróficos para América Latina y a mí me pareció que era muy importante mostrar digamos la gran frustración de este presidente Arbenz que de admirador Estados Unidos de pronto es acusado de abrir las puertas de Guatemala a la Unión Soviética lo que es extraordinario es que Arbenz había insistido mucho para que el Congreso aprobara una constitución en la que se decía que Guatemala nunca nunca tendría relaciones con un país totalitario y lo que es extraordinario es que cuando el golpe militar de Castillo Armas no había un solo ruso en Guatemala ni uno porque estaba prohibido por la constitución entonces fue una terrible injusticia la que se cometió contra ese país contra ese presidente y en realidad contra América Latina porque el apoyo de Estados Unidos a Castillo Armas hizo pensar a miles de jóvenes latinoamericanos que a través de la democracia no se podían hacer reformas en América Latina y que había que optar por la guerrilla por la revolución armada eso fue catastrófico porque sirvió para apuntalar a las dictaduras militares y las guerrillas no triunfaron en ninguna parte salvo en Cuba y miles de miles de jóvenes latinoamericanos se hicieron matar por esa lucha disparatada y absurda que fue la idea de la guerrilla no? Senti ecco questi son i fatti ed è questo per que es centrale dicevo en este tema per capire l'america latina ma il mondo anche di allora come si organizzava e come si muovevano all'epoca il lettore legge il libro appassionato capisce che ci sono degli elementi storici come in tutti i grandi romani tutto lo lo r lo la guerra è documentato hai personaggi inventati l'ogica e in esa parte ho trabajato molto con la imaginazione con la fantasia ma in tutto quello che è l'operazione militare è seguita molto estrictamente le pubblicazioni basicamente del Departamento di Stato e di molti storici e periodisti nordamericani. Sui personaggi, come funziona questo tuo modo? Per esempio, tu hai citato Johnny Abbas Garcia, il killer di Trujillo. Tutto questo è documentato, però, diciamo, si sape che Trujillo manda a Abbas Garcia, Abbas Garcia è il jefe di la intelligencia militare e responsabile di tortura, di asesinato, era il criminal più favorito di Trujillo, è il hombre di confianza di Trujillo, Il lo manda come agregato militare, non era militare, era un periodista hípico, però lo manda, lo hace coronel, e lo manda a Guatemala come agregato militare. Perché? Perché lo manda? È un misterio, non è chiaro, però probabilmente perché lui che abbia dato dinero a Castillo Armas, le abbia pedito due favore che Castillo Armas non lo faccio, perché aveva molta desconfianza di Trujillo, sapeva che Trujillo era molto dominante, che lo iba a convertire in un instrumento e quindi non invitò a Trujillo a Guatemala e non le dio lo che a Trujillo le gustava molto, la gran condecorazione che era lo che Trujillo le abbia pedito. Entonces, se dice che Trujillo manda a Aves García para che organizano una conspirazione contro... No se sabe se organiza questa conspirazione o no. Hay muchas intrigas e muchas conspirazioni contro Castillo Armas, incluso da la propria CIA, che riconosciò che si aveva equivocato, che era una persona mediocre, era incapaz, non tenia autorità. E quindi... Però hai algo molto misterioso, e è che Aves García llega a tener una conexione molto estrella con la amante di Castillo Armas. E la misma noche del asesinato di Castillo Armas, Aves García e questa mujer escapano in un avion a la Repubblica Dominicana. Entonces, è molto strano, molto raro. Che hacía Aves García con la amante di Castillo Armas. La amante di Castillo Armas è stata viva, io le ho cambiato il nome. E la ho incontrato davvero, giusto? Io ho incontrato davvero a la persona, però io le ho cambiato il nome e lei non aparece direttamente. Però, bueno, io tuve una larga conversazione con ella e, desde luego, quando ella regresa, ella va a la Repubblica Dominicana, se convierte in una periodista molto importante a sueldo di Trujillo. Ora, si convierte in una defensora di Trujillo feroz e, al parecer, tuvo un problema molto serio con un hermano di Trujillo al che ponia di presidente Fantoche, no è certo? Il Negro Trujillo. Bueno, che è lo che passò allì, non lo sappiamo in dettaglio, però sì sappiamo che che lei sale immediatamente di la Repubblica Dominicana, si va a Estados Unidos, Estados Unidos la recibe con i brazi abierti, le dann la residencia e quasi immediatamente la nacionalità. Perché esos privilegios? Seguramente perché abbia prestato grandi servizi a Estados Unidos, a través della CIA. eso ya es una fantasía que no está comprobada, esas cosas no se comprueban en la práctica, pero digamos, yo tengo la impresión de que por ahí va la historia, no? Más o menos. Senti, abbiamo parlato di questi due personaggi che sono due personaggi meravigliosi. Donia Marta è questa che citavi in questo modo, che nasce in un modo, ha una prima parte della vita che ha determinati incontri, determinate caratteristiche, poi diventa quello che dicevi. E dall'altra parte l'assassino, l'assassino principale di Trochillo. Sono due personaggi storici, sono due personaggi, tu incontri addirittura, questa è la parte dopo del libro, come spiegavo, che racconta il tuo incontro con Donia Marta, con Miss Guatemala, che non era mai stata Miss Guatemala, ma che tutti chiamavano Miss Guatemala, davvero la Miss Guatemala ottantenne e così via. Ecco, il lettore percepisce queste cose e segue con passione, sia gli eventi personali dei personaggi, sia l'evolversi della vicenda storica, nella quale si sente coinvolto in una maniera particolare, ma di questo parliamo dopo. come trasformano gli elementi di finzione questi due personaggi che sono della realtà? Cioè, come li lavori, facendoli diventare personaggi a tutto tondo? Come... Come... Trattandolos come se fossero personaggi inventati, sono personaggi che hanno una realtà storica, però, diciamo, esa realtà storica io la sconozco, e quindi io lo fantaseo sull'e, invento molte cose che mi permette che mi permette verlo in vivo, sentirli, e al final si integrano come personaggi di ficzione come la storia real, io non la conosco perché niente la conosce, è un misterio, diciamo, che va a quedar allì come misterio, qual fu la funzione di Marta, di la chiamata Marta, in la novela, in il asesino di Castillo Armas, come la relazione di Castillo Armas con lei era molto importante perché divido al ejército guatemalteco, la mitad del ejército estaba con la esposa legittima, che era una persona influente, di una famiglia influente, e la altra mitad estaba con Martita, e quindi c'era una intriga profonda che io sconovo, che tutto il mondo sconoce, e quindi io trato con molta libertà a questi personaggi, sono personaggi che non sono essenziali in il fatto storico stesso, e quindi mi permittano lavorare con un margine di libertà molto grande con loro. Lo stesso succede con Aves García, non se sape realmente la labor che realizza le messe che sta in Guatemala, che è lo che hace, a che si dedica, poi io ho immaginato, di accordo a sus antecedenti, ma o meno, lo che podía stare facendo in Guatemala, però chiarissimamente estava cumplendo ordensi di Trujillo, che aveva sentito un resentimento enorme con Castillo Armas, a quale aveva dato dinero, aveva ofrecito armas, aveva ofrecito incluso hombres per la aczione militare contra Jacobo Arbenz, parece che hombres non arrivò a enviarle, però sì, dinero e armas, o sea, che è facilitò muchísimo la aczione militare e poi aveva un gran resentimento contra lui, perché acusava a Castillo Armas di essere un ingrato, un malagradecido, di non aver respondito, diciamo, come debia, a la participazione che aveva Trujillo in la aczione militare contra Arbenz, no? Dicho sia, di passo, il caso di Arbenz è un caso trágico, perché è un hombre che, diciamo, aspirava buonamente, era un militare, si aveva casato con una signora che era molto proamericana, una salvadoreña rica, che aveva studiato en Estados Unidos, che admirava molto a Estados Unidos e le contagio a lui un poco esa admirazione per il sistema americano, un paese che aveva ha desarrollato straordinariamente, che era molto poderoso, e quindi Arbenz aveva la idea di construir un pequeño Estados Unidos nel coraggio del Caribe e debiò sentirse terribilemente desmoralizzato quando gli attaques ferozi contra lui viener e viener di la prensa più liberale e progresista, lo che è straordinario è che questo sobrino di Freud , quello di la United Fruit, sì, sì, è un prezzo di la United Fruit, invita a periodisti liberali, tra loro una grande periodista norteamericana del New York Times, che si chiamava Flora Lewis, Flora Lewis va a Guatemala e scribe unas cose feroces contra il governo di Arbenz del che clarissimamente non sabía nada, e quindi chiaro, ella tenía un gran prestigio en Estados Unidos, tenía una muy buena posizione politica en Estados Unidos y claro dicho por ella parecía irrefutable que Arbenz estaba abriendo las fronteras de Guatemala a la Unione Soviética, claro, hay que acordarse que era la época de la Guerra Fría, Estados Unidos estaba muy desconcertado porque la URSS capturaba media Europa, toda la Europa del Este pues se apoderò de ella y entonces eran los años del macartismo entonces claro había una crispación tremenda y había una cierta digamos docilidad para creerse cualquier mentira cualquier fake news sobre interferencias de la URSS en Centroamérica ese momento fue desgraciadamente muy trágico para América Latina y yo creo que en cierto modo cambió un poco la orientación de América Latina hubiera sido muy distinto si Estados Unidos si hubiera estado Kennedy en el poder y no Eisenhower Kennedy apoyó con toda una política diferente todas las reformas que se corría pero ya era muy tarde ya era muy tarde ya América Latina había sido completamente convulsionada por lo ocurrido en Guatemala y creo que desgraciadamente la historia de Guatemala había que denunciarla explicando un poco cómo cambió terriblemente la vida política en América Latina luego de la caída de Arbenz que dicho sea de paso fue un personaje trágico porque él salió exiliado nunca se sintió cómodo en los países comunistas que lo acogieron él estuvo en Cuba donde Fidel Castro delante de él decía en discursos Cuba no es Guatemala Cuba no se defenderá si la atacan bueno entonces ahí lo acusaban de no haber defendido lo que ocurría en Guatemala y su muerte fue trágica realmente nadie sabe si murió por alcohol en un baño alcoholizado o se suicidó es un personaje realmente trágico ¿no? aunque la muerte de Abbas es misteriosa bueno la muerte de Abbas de Abbas García el único testimonio que hay es el de el heredero de Trujillo que es Balaguer ¿no es cierto? que fue presidente de la República Dominicana siete veces siete veces fue presidente y él de en sus memorias cuenta la historia que es espantosa terrible la muerte de Abbas García con la mujer y con las hijas pero hay un testimonio de una evangelista norteamericana que era vecina de Abbas García que vio a los Tonton Macut asesinar a Abbas García a su mujer a las niñas a las sirvientas a los perros y a las gallinas de la casa y luego quemar la casa en una especie de ceremonia bárbara primitiva una muerte verdaderamente atroz la de esa familia ¿no? y eso pues hay el testimonio de una no solamente de Balaguer sino de una evangelista norteamericana que era vecina de los Aves García ¿no? si dice un pequeño grupo de profesionales que estaban a favor de Arbenz ¿no? que querían esas reformas que querían modernizar el país sacarlo de esa edad media en la que vivía con latifundios enormes y entonces yo fui varias veces a Guatemala mientras estaba escribiendo el libro y conocía personajes que eran semejantes al personaje que aparece allí en la novela pero ese es un personaje inventado ¿no? si me sembra que te serviste para describir el mundo prima de Arbenz exactamente el mundo el mundo que 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 exactamente 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 hombre Guatemala y los países centroamericanos eran países más bien feudales ¿no es cierto? No eran países modernos había grandes latifundios el trabajo de la tierra estaba en manos de indígenas había una explotación que era terrible realmente y bueno uno de los primeros países que se emancipa de eso es Guatemala gracias a una especie de revolución en que participan tanto militares como intelectuales y la que resulta el gobierno de Arbenz el gobierno de Arbenz que es hijo de un suizo un suizo probablemente a él lo mataron al ejército lo metieron a la academia militar porque la familia era muy pobre muy modesta y entonces Arbenz destacó mucho en los deportes no era un intelectual pero el matrimonio con esta señora salvadoreña a él le abrió los ojos le hizo descubrir el problema social en su país en todo centroamérica y le le dio la idea de las reformas a través de la legalidad que él intentó llevar a llevar a cabo en Guatemala su caso ya digo es verdaderamente trágico porque él si había un pro norteamericano era Arbenz y de pronto se encuentra con que Estados Unidos lo acusa y la prensa más progresista lo acusa de ser un agente soviético él que era profundamente antisoviético que había pedido que en la constitución de Guatemala se pusiera que Guatemala nunca tendría relaciones con la Unión Soviética bueno de pronto pues se encontró con que el ejército se movía él no se atrevió digamos a sacar al ejército porque el embajador norteamericano los asustaba mucho a los oficiales de ese ejército con los marines que estaban pues ahí en los barcos en los dos océanos que rodean a Guatemala y entonces esto llevó a Castillo Armas a triunfar en el golpe de estado pero con consecuencias trágicas para el resto de Centroamérica y América Latina no sentí yo prima dicevo que es un libro que no no que no lascia que no lascia el lettore el lettore no riesce a lasciar el libro esto por el hecho por el hecho que son raccontados naturalmente ma pero por como son raccontados una parte del como es la construcción de estos personajes maravillosos que no son simplemente historicos pero a todo tondo en carne ed ossa que solo magia que solo un grande scrittore riesce a fare e poi c'è un montaggio straordinario di questo cioè realtà finzione e tempo della narrazione in cui tu ecco vuoi dire una parola su questo perché secondo me c'è un'architettura proprio del libro che che è un'intenzione interpretativa oltre che una tecnica ecco e credo che sia molto importante io credo che è molto importante che la novela sia agile che la novela exige un certo esforzo del lector che non sia una novela sencilla simple perché c'è una complessità social politica all'inizio abbastanza grande abbastanza importante e quindi a mi mi gusta che che lectori lavorano leggendo le noveli che scrivo come ho lavorato io scrivendo quindi ci molti elementi che stimolano la imaginazione del lector però che le hanno che riempire con fantasie con imaginazioni così che in questa novela ho lavorato come se fosse una novela di ficzione però in tutti le he militare di la conspirazione apoyandomi moltissimo in documenti che sono fondamentalmente documenti norteamericani perché è curioso che più hanno scritto su l'occhio di Guatemala sono historiadores periodisti e sociologi norteamericani molto più che gli guatemaltecani sono gli che hanno entregato un material esplendido su un episodio che è molto lamentabile in la storia moderna degli Stati Uniti Uniti Fruit è un mostro statunitense che ha opreso l'America Latina La storia della United Fruit è una storia per una gran novela perché fu fondata per un judio ruso molto joven che escapò di Russia escapò in la epoca di las matanzas di russi se instalò in un pequeño pueblito del sur de los Estados Unidos y con 150 dólares se metió a Centro América tuvo allí una vida aventurera una vida absolutamente bárbara primitiva e e fue adquiriendo propiedades hasta convertir a la United Fruit en un gigantesco país que era dueño prácticamente de Centroamérica de las islas del Caribe incluso de una buena parte de Colombia o sea que era un verdadero imperio de este personaje que parece que nunca llegó a dominar el inglés y que sin embargo fue poderosísimo pero que tuvo la buena intuición de contratar al sobrino de Freud que se jactaba de ser el inventor de las nuevas relaciones públicas en Estados Unidos es muy divertido porque yo después de publicada la novela descubrí en un periódico alemán una entrevista a la viuda de este señor que vive en Alemania decía mi marido en la vida solo se arrepentía de una cosa de la función que tuvo en Guatemala en la caída de Arbenz porque es lo único que a él le molestaba muchísimo en su currículum vite pensaba que allí se había equivocado profundamente haciendo lo que hizo es muy divertido porque eso lo descubrí en un periódico alemán la viuda de este señor que había muerto hacía mucho tiempo ya él era un austriaco en realidad muy simpático culto y que había emigrado a los Estados Unidos y se hizo muy amigo de directores de periódicos daba clases en universidades se presentaba más como un intelectual que como un hombre de publicidad y entonces el dueño de la United Fruit lo contrata y fue desde luego yo creo que el primer caso en la historia en el que lo que se llamarían luego las fake news tuvieron absoluto éxito porque funcionaron a la perfección no perfectamente perfectamente a la perfección si si tú spes tú cuando has escrito libros en Congo por ejemplo me recuerdo cuando no se trobavamo più que disparito per mes en Congo si fai de sopra luoghi hay bisogno Siempre voy al lugar porque a mí la la presencia física del lugar es muy importante los olores los sabores el cantito de la gente todo eso para mí es fundamental sabes impregnarme de todo eso no nunca hubiera podido escribir un libro yo sobre una una tierra que no conozco sobre gentes que no conozco que no he tratado dicho sea de caso la 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 experiencia del Congo para mí fue terrible porque yo no he visto un país más desgraciado en la tierra que el caso del Congo no creo que lo que ocurrió en el Congo con Leopoldo II el rey de los belgas fue realmente un verdadero genocidio fue algo atroz y lo que es maravilloso es que Leopoldo II se reunieron 15 países en Berlín Estados Unidos Alemania Francia bueno Inglaterra no había un solo país africano no había un solo negro presente y le regalaron le regalaron el Congo a Leopoldo II no a Bélgica a Leopoldo II personalmente y entonces él era dueño del Congo él se había hecho famoso contratando periodistas que le rendían culto como el gran luchador para llevar la religión cristiana al África y para combatir el tráfico de esclavos que aparentemente venían de esclavistas árabes que asaltaban periódicamente las regiones africanas para capturar esclavos bueno Leopoldo II fue probablemente el primer gran genocida del siglo XX creó un sistema nunca pisó el Congo por supuesto pero creó un sistema absolutamente monstruoso en el que las compañías a las que él licitaba regiones del Congo podían cortar manos cortar pies asesinar a los esclavos africanos que tenían si no cumplían con las cuotas que tenían que entregar el caucho entonces eso desarticuló al país de tal manera que nunca se ha rehecho yo creo que el Congo nunca se ha rehecho de la tragedia que fue desde el punto de vista social desde el punto de vista histórico esa desarticulización de todas las distintas comunidades y fue entre todas las experiencias que he tenido yo la peor realmente la más trágica el descubrir digamos hasta qué punto ese país estaba como desecho destruido internamente por lo que había sido una experiencia colonial trágica ¿no? Horrible si orribile fondativa e orribile es vero atrosse atrosse questo questa 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 cosa si sente molto nei tuoi libri anche fortissima in 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 tempi duri nel senso che il lettore si trova non soltanto nei fatti ma anche negli ambienti nei profumi appunto come dicevi nel nel canto della quasi della lingua anche se lo leggiamo in traduzione insomma che te parece la traduzione è buona ottima generalmente le traduzioni sono in Italia sono buone le traduzioni sono molto buone certo i traduzioni generalmente fanno un ottimo un ottimo lavoro e tu hai scritto uno splendido romanzo e spero di vederti presto oye un abrazo molto forte Ernesto un abrazo grande ciao e che te libres della pandemia e tu tambien